I massi pericolanti che incommevano sulle abitazioni di Illuminiano oggi si presentavano così, sbriciolati dagli esplosivi. Dissolta in questo modo dunque una situazione di potenziale pericolo in tre punti per l'abitato della frazione di Longare, minacciato fino a ieri da massi che staccati dalla falese per il maltempo erano rimasti in bilico, mettendo a rischio l'incolumità di case e abitanti. E' andata parecchio bene, diciamo che tutto è avvenuto secondo i piani, con qualche ritardo però comunque diciamo che la cosa è stata comunque tollerata dalla popolazione. Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Speriologico ha lavorato bene, ha lavorato in sinergia con la protezione civile, l'amministrazione comunale, polizia locale, carabinieri. C'è stato un bel coinvolgimento da parte di tutte queste fazioni e tutto si è svolto nel migliore dei modi. Avviso alla popolazione, inizio operazioni brillamento massimo, ripararsi in luogo sicuro. Questi gli avvisi alla popolazione ieri in attesa che si allontanassero gli ultimi escursionisti curiosi che hanno ritardato l'inizio delle operazioni. Il botto di tre potenti detonazioni delle microcariche ha squarciato in successione il buio della sera. Un fragore violento di tuono, ciascuno ha però spazzato via la paura. Sirene che hanno suonato, siamo usciti tutti a guardare perché giustamente è una cosa nuova, comunque tutto nel limite. Che ora è successo? Verso tardi, verso le dieci, dieci e mezza comunque. L'Illuminiano tira un po' il sospiro, il sollievo. Sì, ho sentito gli abitanti che adesso si sentono un po' più sicuri sicuramente. Fanno paura questi sassi che vengono da me? Pagipico. E quindi è importante che vengono messi adesso i lavori? Di pressa, sì dai. Anche perché veniamo da un periodo dove siamo abbastanza approvati proprio per la situazione meteo, quindi meglio che sia stato risolto tutto, è andato tutto bene. La conformazione di Luminiano appunto è quella di avere una falesia di roccia verticale, una parte di pendio circa di 70-100 metri non più esteso e subito dopo il nucleo del centro abitato. Quindi appunto la bravura è stata quella di intercettare possibili effetti collaterali, possibili massi rotolanti o comunque volanti e bloccare danni ai tetti o comunque alle abitazioni. Questo è stato tutto scongiurato per cui operazione è ben riuscita. Grazie a tutti.